Buongiorno. Buongiorno, il mio perché, il perché sto qui è raccontarvi perché 15 anni fa mi sono innamorato pazzo di un'idea. Ora, non so se a qualcuno di voi sembra strano innamorarsi pazzo di un'idea, però il grande Wotid, che era un capocchione, diceva che il pensiero è una straordinaria modalità di eccitamento, quindi ci sta la possibilità di innamorarsi dell'idea. L'idea di cui mi sono innamorato io è il lavoro ben fatto, però vi voglio dire che 15 anni fa me ne sono innamorato, non che l'ho conosciuto, perché io in realtà l'ho conosciuto che avevo 10 anni, 10 anni e mezzo secolo e un poco fa che io avevo 10 anni, che mio padre tornò una sera e mi spiegò la differenza che c'è. Mio padre era un operaio, un lavoratore, aveva fatto la quinta elementare, ma a modo suo mi spiegò la differenza che c'è tra il lavoro preso di faccia, che nella sua idea è il lavoro ben fatto, il lavoro fatto con impegno, con amore, con dedizione, con competenza, con maestria, e il lavoro fatto a meglio a meglio, che invece il lavoro invece no. Ma torniamo all'innamoramento. Ora, quando ci innamoriamo di una donna, di un uomo, o di un uomo per certi versi è più semplice, perché sì, ci fa piacere coinvolgere gli altri, ci fa piacere che gli altri dichano come è bello, che è bello, che condividano le cose, ma alla fine uno quando sta innamorato, vuole stare innamorato, vuole essere felice, vuole stare con la sua donna, con il suo uomo, insomma, se la vuole godere il suo amore. Con le idee non funziona così, perché se sei innamorato da solo non succede nulla. Cioè, un'idea per camminare, per produrre un fatto, per produrre qualcosa, ha bisogno di essere condivisa da tante persone. E questo, diciamo, come dire, la rende particolarmente interessante come ragionamento. Perché mi sono innamorato di questa idea? Sostanzialmente perché a un certo punto mi sono reso conto che, diciamo, fare bene le cose non è solo, vedete, un modo etico, cooperativo, sociale, di pensare e di fare le cose. Il lavoro ben fatto è, prima di tutto, un modo razionale, utile, conveniente di pensare e di fare le cose. Io ho deciso di farvi innamorare. In un primo momento avevo pensato di provare a farvi innamorare. Poi mi sono ricordato di Yoda che in Star Wars dice al giovane Luke Skywalker che provare non esiste, c'è fare o non fare, provare non c'è. E quindi io non provo a farvi innamorare. Io, come dire, conto di riuscirci e vi provo a farvi innamorare, non di me, che quello è complicato, insomma, è difficile, ho un sacco di difetti, sono troppo vecchio. Come dice il grande Al Pacino, in ogni maledetta domenica, insomma, anche la mattina, quando mi guardo allo specchio comincio ad avere delle difficoltà. Però voglio farvi innamorare della mia idea. Voglio farvi innamorare della mia idea perché per me questa è una straordinaria opportunità. Come diceva Sun Tzu, questo altro capoccione cinese di migliaia di anni fa, le opportunità se le cogli si moltiplicano. E per me ciascuno e ciascuno di voi che state qui siete degli straordinari moltiplicatori di opportunità. Per farvi innamorare della mia idea, che magari per molti di voi è già la vostra idea, perché lo fate ogni giorno, comunque per farvi innamorare della mia idea io userò quattro parole. La prima parola è senso. Fare bene le cose ha senso. Ha un senso straordinario. Ha senso come nuto che nella luna e falò di Cesare Pavese dice ad Anguilla l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa ma da come lo fa. Guardate com'è bello questo concetto. Misurare l'ignoranza delle persone non rispetto a titolo di studio. Non che io ho la laurea e sono colto e papà mio che c'era la quinta elementare è un ignorante. No, 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 non funziona così. Funziona che se io faccio bene il mio lavoro, dice Cesare di Cenuta d'Anguilla, non sono ignorante. Ma chiunque fa bene il suo lavoro non è ignorante. Fuori a delle botteghe di elettricisti, di idraulici, di artigiani, falegnami a Sarno, ho trovato una scritta che quando lo racconto ai miei ragazzi all'università, ma anche agli imprenditori, alle imprese, con le persone con cui parlo, fanno tutti quanti la scritta è ciò che va quasi bene non va bene. Ora, voi provate a immaginare la forza evocativa di questo concetto. Ciò che va quasi bene non va bene. È fortissima, è, diciamo, come dire, straordinaria. Vi ho detto di mio padre con il lavoro preso di faccia, ma anche il papà di Steve Jobs non c'era male. Walter Isaacson nella sua biografia racconta che Steve Jobs lo porta a visitare la casa del padre e gli dice che il padre gli aveva inculcato l'idea che anche la parte di dietro della staccionata e anche la parte di dietro degli armati, quella che va appiccicata al muro, deve essere fatta bene. Non è che poi che tu non la vedi la puoi fare male, la puoi fare senza impegno, senza cura, senza passione, senza amore per quello che fai. Guardate che poi più avanti Isaacson spiega che Steve Jobs l'ha fatto imbazzire, i suoi ingegneri, per fargli applicare questo concetto, che più di una volta quelli là non sapevano perché dovevano fare in un certo modo anche le parti all'interno di una delle sue macchine che nessuno avrebbe mai aperto e che nessuno avrebbe mai visto. Ma ha senso anche perché il 14 dicembre ci sta una persona che compirà 94 anni, si chiama Mastrantonio Zambrano, è una persona normale, ci torneremo alla fine a questa idea, a questo concetto della persona normale. lui gli fa legname prima e poi l'ebanista da quando aveva 14 anni, 80 anni. Sono 80 anni che fa quel lavoro. E l'ultima volta che sono andato a trovarlo, riesco a andarci una volta all'anno, faccio come tanti di noi una vita complicata, era il periodo appena dopo Natale, e lui mi ha detto, dice, professore, quella mia moglie mi ha sgridato perché ha detto che io anche il primo di dicembre scendo nella mia falegnameria. E io l'ho guardato e ho detto, Mastrantonio, guardi, forse sua moglie ha anche un po' di ragione, magari il primo dell'anno vorrebbe che lei andasse insieme a fare una passeggiata, a vedere una cosa, come dire, si mettesse il vestito buono. Lui mi ha guardato e mi ha detto, sì, lo so, però io se non scendo nella falegnameria ogni giorno muoio. Ora, Primo Levi, è l'ultimo esempio che vi faccio sul senso. Primo Levi, in un'intervista, mi ricordo la data, io date, nomi, non mi ricordo nulla, me la ricordo perché è molto vicina, sono quasi giusto 30 anni, fa un'intervista sulla stampa, il 26 novembre del 1986, con Philip Roth, e a un certo punto si ricorda che persino nel lavoro schiavistico ad Auschwitz fare bene il lavoro che gli chiedevano di fare era un modo per preservare la sua umanità. il lavoro ben fatto come antidoto alla perdita di dignità in una condizione estrema, come Auschwitz, un campo di concentramento, in un posto dove l'annullamento della persona e dell'idea stessa di essere umano è il presupposto stesso su cui si basa, diciamo, la vita di ogni giorno. Il lavoro ben fatto è la seconda parola, è bello, la seconda parola è bellezza, poi dopo ne parleremo con Rodolfo, voi vedete, io non vi sto parlando di quello che faccio, di come lo faccio, vi sto raccontando perché mi sono innamorato del lavoro ben fatto, poi dopo magari con Rodolfo parliamo anche di queste cose qui, però voglio dire, la seconda parola è bellezza, fare bene le cose è bello, e certamente è bello anche perché il tuo papà, il tuo collega, il tuo amico, il tuo conoscente, una persona che non conosci, io quando scendo da qui sopra e uno di voi mi dice mi è piaciuto questo racconto che hai fatto, certamente questo è importante, questo è significativo, questo è molto importante, però è meno importante della bellezza che c'è, diciamo, ciascuno di noi con se stessi, cioè fare bene le cose ti dà una bellezza interiore, ti dà un senso interiore, ti dà una soddisfazione interiore, perché ciascuno di noi quando fa bene una cosa lo sa ed è bello, perché dice questa cosa qui mi è venuta bene, sono contento, qualunque cosa, se fate il centro direzionale di Tokyo, se costruite l'Arbour Bridge a Sydney, se fate il caffè, se cucinate la pasta e fagioli, poi ci torniamo sulla pasta e fagioli. La terza parola è giustizia, fare un lavoro ben fatto è giusto. Guardate, qui è un meccanismo intuitivo, ogni volta che incrociate una strada pulita c'è uno spazzino che ha fatto bene il suo lavoro, non ci sta possibilità alternativa. Ogni volta che incrociate un bambino che ama la matematica, l'italiano, il francese, il tedesco, la siro babilonese, la fisica o la chimica, c'è alle spalle un bravo maestro o un bravo insegnante. E nel caso contrario, quando ti dicono odio la matematica, odio l'italiano, odio una cosa qualunque, c'è un cattivo maestro alle spalle. È matematico. Quando sei curato bene c'è un bravo medico che lavora bene, ci sta un bravo infermiere che lavora bene, ci sta una struttura ospedaliera dove ti curano bene e dove le persone fanno bene il loro lavoro. Ieri a un certo punto si parlava di lavoro etico, c'è un ragazzo che ha lanciato una start-up che si chiama Ethic Jobs, e questo è il fondamento dell'idea, come dire, era esattamente questo anche in quel caso, fare bene le cose perché è così che si fa, perché è molto sociale il lavoro ben fatto, per certi versi è indispensabile. Vengo alla quarta parola, la convenienza. È la parola più importante di tutti, perché, come dire, quelli come me, io ho 61 anni, noi siamo cresciuti, quelli della mia generazione, pensando che le idee giuste cambiassero il mondo. Io adesso ho molto più dubbi, sono molto più dubbioso su questa simmetria, su questa connessione tra la giustizia delle idee e la possibilità di cambiare le cose. Io penso che le cose che cambiano naturalmente devono essere belle, devono essere giuste, però devono essere soprattutto convenienti. Io batto molto su questa roba qui. Fare bene le cose è conveniente, conviene. Eccoci alla pasta e fagioli. Per fare la pasta e fagioli mi dimentico sicuramente qualcosa. Ci vuole l'acqua, ci vuole la pasta, ci vogliono i fagioli, ci vogliono le spezie, ci vuole un po' di pancetta, ci vuole l'olio, ci vuole il fuoco sotto la pentola, ci vuole la pentola, ci vogliono i piatti, le forchette, le stoviglie per mangiartela, ci vuole il sapone per lavare tutta questa roba che si sporca, ci vuole il tempo, che è la cosa più dannatamente importante con la quale siamo chiamati a fare i conti. Il tempo, il tempo. Non abbiamo mai tempo. Chi ce l'ha da dare a mai il tempo se non ce lo pigliamo il tempo. Guardate, a fare la pasta e fagioli ci vogliono comunque 15-20 minuti. O la fai una schifezza, o la fai bene. Sempre uguale. Ci vogliono sempre queste cose qui, più altre cose che mi sono dimenticato. E l'unica scelta vincente è farla bene. Perché almeno, a monte di tutta questa fatica e di tutti i tipi di risorse che hai impegnati, alla fine, come dire, il fatto che l'hai fatta bene ti fa provare soddisfazione nel mangiarla e di farla mangiare ai tuoi amici. Quindi, fare bene una cosa conviene. Farla male è uno spreco enorme di risorse. Pensate quando si fa una strada e crolla. Io vi faccio sempre degli esempi concreti, poi lo dirò proprio alla fine, la fine, perché la mia non è una poesia. Cioè, la mia è una scelta di vita, è un punto sul quale ho sto ogni giorno, sul quale cerco di terminare nelle scuole, nel lavoro, dei cambiamenti e dei piccoli cambiamenti si, diciamo, come dire, si realizzano. Naturalmente, se siamo una è una cosa, se siamo dieci è un'altra cosa, se siamo cento è un'altra cosa, se siamo un milione funziona diversamente. Ma non è, con tutto l'amore, diciamo, naturalmente le poesie sono in sé anche una cosa bellissima. Però voglio dire, non è una cosa, cioè, se voi venite di qua, dice, sì, era carino il ragionamento, ma non si può fare. A me mi mandate al manicomio, non so se mi spiego. Cioè, no, non funziona così, ma non è che si può fare perché lo dico io, si può fare perché lo faccio. E se lo faccio io, lo può fare chiunque, perché io non sono Superman, io sono uno normale su poche cose, abbastanza subnormale su tante altre cose. E quindi non è che dici lo fai tu, non esiste, lo possiamo fare tutti. Fare bene il lavoro, fare bene le cose, è un modo per vivere vite, come dicono i miei amici filosofi, più degni di essere vissute. fare bene le cose è un modo, diciamo, come dire, per dare più senso, come abbiamo detto, a quello che fai. Ecco, vedete, se noi partiamo da qui, ieri ho visto anche oggi, l'organizzazione prevede questa cosa qui, di Ligabue, che canta questa canzone, lì nella sala internazionale, Made in Italy, no? Ora provate, io in un mio libricino di racconti, del 2013, a un certo punto, in uno dei racconti, ho scritto questa cosa qui, ho scritto, provate a immaginare, come sarebbe bello, l'Italia, se qualunque persona, da qualunque parte del mondo, arrivasse, in un aeroporto, in una stazione, in un comune, in una città di qualunque dimensione, trovasse un cartello, mi è dispiaciuto non averlo detto a Giancarlo Carniani, perché mi sarebbe piaciuto, non naturalmente che lui avesse citato la cosa, però diciamo, mi sarebbe piaciuto dirglielo, ma dopo lo faccio, trovasse un cartello, su quale c'è scritto, benvenuti in Italia, il paese dove ognuno fa bene, quello che deve fare, e tutti vivono meglio. Cioè, guardate, funziona, ma funziona veramente, ma funziona veramente, e quando andiamo in un paesino, che funziona un poco meglio, immediatamente, ce ne accorgiamo, quando andiamo all'ufficio postale, e troviamo una persona, che ci accoglie con un sorriso, immediatamente, cogliamo la differenza. Finisco questa prima parte dicendo sostanzialmente due, tre cose veloci. La prima, c'è una quinta parola, fare bene le cose è possibile. La quinta parola è possibilità. Cioè, non è una cosa difficile, non è, è un approccio, è come allacciarci le scarpe, è come abbottonarsi la camicia. Io non so, se qualcuno di voi si ricorda, magari ci stanno persone, che hanno figli di 4-5 anni, è drammatico, quando insegni un bambino, la prima volta, ad allacciarsi le scarpe. Mi è capitato, che partivo con la nave, per la Sicilia, c'era una signora francese, che ai suoi due figlioletti, insegnava proprio questa cosa, perché poi accadono, queste cose così, che ti danno degli spunti. uno dei bambini c'è riuscito, è un altro no, e questo ha detto, dice, si è messo a piangere come un pazzo, quello lì che non c'è riuscito. Una volta che ha imparato, diventa una cosa automatica, quindi fare bene le cose, è una cosa, come dire, che viene da sé, una volta che l'abbiamo presa come approccio. Quindi è possibile. la seconda cosa, è che dobbiamo costruire una nuova epica, un'epica che non è basata sugli Avengers, sui supereroi, è basata sulle persone normali, le persone come me, come te, come te, come te, come te, non vi vedo, scusate per le luci, le persone come ognuno di voi, che la mattina mettono i piedi per terra, e cercano di fare, e fanno bene, quello che devono fare. Se noi riusciamo a costruire questa nuova epica, se noi riusciamo a fare dell'Italia un paese nel quale il lavoro vale di più dei soldi, ciò che sappiamo fare, ciò che sappiamo vale di più di ciò che abbiamo, noi genereremo un cambiamento. La possibilità di generare un cambiamento non è un sogno, perché è un sogno quando uno sogna da solo. Noi siamo in tanti a sognare, e quando si sogna in tanti, comincia la realtà. Vi ringrazio assai, e prego il mio amico Rodolfo di fare due... Signora... Non è che ho molto da aggiungere. No, va bene. No, se non il fatto che, chiacchierando un po' di tempo fa con Vincenzo, poi ora questi che sono, sembrano discorsi belli aulici, poi cominciamo a cercare di trovare anche delle applicazioni pratiche. Alcuni di voi mi conoscono, sanno che io non sono mai stato particolarmente innamorato del fare le cose perché debbano avere un'immediata applicazione pratica. Io faccio un mestiere che consiste nel cercare di capire i fenomeni, cercare di capire come funzionano le cose, eccetera, e poi, vuol dire, io scrivo articoli su riviste scientifiche, faccio i miei modellini, tutte le volte che arriva il solito commento, che arriva sempre, del tipo, ma questo, che implicazioni ha per un manager? e la mia reazione è chiedetelo a un manager, cioè, non è un mestiere mio. Però, detto ciò, sono uno, come sapete, che gioca con i numeri, fa quelle robe lì, quindi molto più col piedi per terra. e quindi un po' di tempo fa abbiamo cominciato a ragionare con il convincenzo, abbiamo cercato di capire anche se questi discorsi potessero avere qualcosa di più, come dire, di più concreto, giusto? Certo, certo, certo. L'abbiamo fatto con le scuole, come vi dicevo, abbiamo una metodologia che funziona, trovate sul web, trovate tutto, dalla prima elementare all'università. Naturalmente i contenuti sono diversi, però ragioniamo con questi bambini, cominciamo che non sanno leggere e scrivere, nel loro lessico entrano parole come lavoro, come lavoro ben fatto, come tecnologia, come consapevolezza, se ne innamorano. Quest'anno questi dell'università hanno scritto sette minuti del prossimo episodio, quello che esce nel 2018, di Star Wars, di sceneggiatura, naturalmente con i loro limiti, con i loro problemi, dove loro possono arrivare, cioè non ci stanno ricette miracolistiche. Come diceva l'americano, il progresso è fatto per il 90% di olio di comiti e il 10% di genio. Però si fa. E lo stesso discorso è questo discorso sulla bellezza. A un certo punto ci siamo messi a ragionare di bellezza e ci siamo messi a ragionare di come la bellezza potesse essere un moltiplicatore di sviluppo. Cioè non solo la bellezza come un fatto formale, naturalmente la bellezza che apprezziamo in ogni cosa, in particolare in Italia, ma anche la bellezza proprio come opportunità, come occasione di sviluppo. E anche questo è importante, perché poi alla fine i discorsi sono belli, come diceva qualcuno, però poi viviamo in realtà come queste. Allora quello che cerchiamo di fare cerchiamo di capire. Ora, non è facile, richiederebbe molto lavoro che, come sai, proviamo a mettere qua e là, non dico nei ritagli di tempo, perché quando facciamo le cose le facciamo in un certo modo, sempre per non ripetere. E però cominciamo a capire, cominciamo a capire che in realtà esiste un legame, perché la prima cosa che dovete fare quando cercate di capire se qualche cosa funziona o no è capire se, almeno dal punto di vista logico, esiste un legame. Perché se non esiste, lo dicevo anche ieri, in maniera diversa a chi ha ascoltato i nostri vaneggiamenti sulle smart city, se non esiste una logica che funziona sotto, voi potete usare tutti gli gadget che volete, non riuscirete mai a ottenere nessun risultato sensato. E qui abbiamo trovato un percorso logico, perché poi se uno va a scavare, c'è un po' di... Certo, certo. Di robe le trovo. Soprattutto abbiamo trovato tante persone così che lo fanno. Cioè, insomma, come dire, sia chiaro che larga parte del nostro lavoro non è quello lì di inventare cose. Cioè, non è che siamo David Copperfield, che facciamo le magie. No, no, noi siamo creativi. Dove è creativo è quello che... Siamo anche creativi, però, per esempio, una delle cose che io ho provato a fare, uno dei motivi per cui faccio una quantità industriale di chilometri, diciamo, ogni anno, anche il motivo per cui sto qui, troviamo ad andare in giro, a trovare persone che quando fanno una cosa la fanno bene. Ora, io da solo, che sono uno, normale, come vi ho detto, ma dico davvero, normale, normale, poi le cose mie, cerco di farle bene, come dire, mi dicono, perché stiamo parlando seriamente, che le so anche fare bene. Però sempre uno sono. E io in questi dieci anni ho raccontato quasi mille persone che fanno bene, ma persone normali, a loro volta. Cioè, persone che tu non lo diresti che in delle difficoltà enormi loro comunque tengono la barra dritta. Allora, questa roba qui dà un senso di credibilità, dice Vincenzo, Rodolfo, non è che sono matti che vanno in giro, oppure che c'è sotto. In Italia siamo abbastanza, diciamo, insieme alle tante cose che abbiamo, ci stanno sempre delle cose un po', Rodolfo, complottiste, no? Ah, no, sì, quello. Che ci sta? Cioè, non ci sta niente. Cioè, ci sta il fatto che c'è un'altra Italia. Ci sta che finalmente qualcuno l'è fatta. Esatto. E c'è anche il fatto che quest'altra Italia che c'è, che esiste, che è tanta, non la racconta nessuno. Perché raccontano tutti quanti le stesse cose. Raccontano tutti quanti quello che fanno le cento persone che sono, diciamo, quelli che chiamano i top, cioè quelli là che escono. Vabbè, insomma, nel telegiornale di questi tempi sono meno di cento, però, insomma, si raccontano sempre le stesse cose. Perciò abbiamo parlato di una nuova epica. Perché la narrazione, raccontare le cose, dice Sennet, è un modo per dare senso alle cose che accadono e metterle in relazioni. È un'altra cosa, diciamo... Io ho raccontato anche lui, fammi dire questa cosa. Io l'ho incrociato perché ho raccontato lui, perché mi faceva buffo l'astrofisico che si occupava delle reti nel turismo. E lui, a un certo punto, perché naturalmente si è raccontato per i fatti suoi, quando io trovo persone così, metto le virgolette e gli ho lasciato tutta la storia sua, però lui, la sua prima parola chiave è stata curiosità. Ecco, un'altra parola del lavoro ben fatto, e siamo a sei, è la curiosità. le persone curiose... Su quello sì, una delle cose che dico sempre ai miei studenti è che per vivere in questo mondo devono essere patologicamente curiosi. Ma patologicamente, se mi mettete... Cioè, mia moglie lo sa, poi becco delle cazziate. Se mi mettete in una stanza con un mobile, io devo aprire i cassetti per vedere cosa c'è dentro, se no, sto male. E' quello che poi ti porta a trovare queste cose. E il discorso che facevamo prima è troviamo un filo logico e il filo logico almeno dal nostro punto di vista crediamo di averlo trovato perché abbiamo scoperto che vivere in ambienti belli come dimostrato da parecchi sviluppa voglia di fare, sviluppa creatività, eccetera, che è la base poi per i discorsi di innovazione, di sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi il discorso fila in maniera logica. Ma la cosa difficile sarà provare a dimostrarlo con come io intenderei fare. Certo. Però pian piano ci arriviamo. Sì, lasciamo cinque minuti per qualche domanda. Volevo dire un'ultima cosa oltre le cose che vuole aggiungere Rodolfo. Ho rivisto per motivi di lavoro il famosissimo discorso alla Stanford University di Steve Jobs e lui a un certo punto dice la prima parte quello lì di collegare i puntini arriva alla fine e dice per collegare i puntini non puoi collegare i puntini del futuro devi collegare i puntini del passato delle cose che hai fatto. Il lavoro che facciamo noi mira anche a questo anche nella bellezza parte dalla bellezza che c'è dalla bellezza che è già diventato un fattore di moltiplicazione anche dal punto di vista economico delle opportunità. Perché il nostro punto non è quello lì di dire che siamo i più bravi i più belli i più intelligenti. Il nostro punto è dire diamo più valore alle cose che ci stanno e ci possono far vivere e progredire tutti meglio. Bene due minuti per qualche domanda ce l'abbiamo se avete curiosità se non le avete perché state qua dovreste averne. Sì vorrei chiederti quanto incide nella tua attività il fatto di essere napoletano cioè per noi il lavoro è fatica no? Cioè ma fatica spiegato anche semanticamente mica solo lui no no non lo so probabilmente incide dal punto di vista caratteriale però io ho trovato milanesi genovesi siciliani molto migliori di me non è non è non è non è non ne facciamo una questione di quantità esatto esatto e che dobbiamo insomma come dire io spero che ognuno di voi abbia fatto almeno un tweet una cosa su facebook una cosa perché la moltiplicazione avviene anche attraverso queste cose qui e vi ripeto andate a vedere non le cose che faremo le cose che già abbiamo fatto perché vedendo le cose che già abbiamo fatto e che le persone già fanno vi renderete conto che alla fine continuando a fare bene cosa che probabilmente molti di voi già fanno le cose che fate se lo sapete se ci pensate se siete e vi sentite parte di una comunità vi vede più contenti cioè io faccio un sacco di fatica cioè proprio fisicamente faccio più di 110-120 mila chilometri all'anno da 20 anni è una cosa che mi fa impazzia a me quando mi chiedono le ferie quali sono casa mia e rendetevi conto che tipi di problemi familiari enormi ho insomma però il punto è che se ami le cose che fai le cose che fai hanno un senso e le cose hanno un senso quando tu riesci a connetterle con questi puntini a quello che fai tu quello che fai tu quello che fai tu quello che fai tu lo sto facendo sempre diciamo a buio perché non vedo niente neanche io se non c'è altro grazie no ce n'è una sì che non vedo guardate lì voi io non vedo un canale no che poi per i napoletani invece è importante guardarsi negli occhi io se fossi riuscito a guardarvi per me sarebbe stato molto meglio dimmi ma dimmi no e ho paura di dare fastidio a quelli che lavorano lì perciò non sono sceso vai ma io più che una domanda voglio dare un feedback sì ho trovato estremamente istruttivo chiarificatore l'esempio della pasta ai fagioli perché scomponendo un piatto così facile così semplice così in tutte quella serie di piccole cose dal fuoco sotto io non l'avevo mai pensata in termini del fuoco sotto che coce la pasta ai fagioli quindi ti voglio ringraziare per questo grazie a voi grazie bene grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti